buongiorno a tutti allora proseguiamo proseguiamo con le schedine e bollettine del gigione sperando in bene sempre perché adesso dopo il campionato francese che appunto ha due partite al venerdì sera quindi l'ho anticipato come si sa ho anticipato come faceva il mio professore delle superiori ragazziro io anticipatoro comunque niente partiamo subito con le partite di sabato poi quelle di domenica partite di sabato che mi acchiappano molto avrei voluto fare le schedine e bollettine già con quelle ma vi do già la dritta con le mie fisse poi vedete voi con la schedinazza quindi granada civilia 2 selta vigo atletico madrid 2 real madrid cadice 1 getafe barcellona 2 ci possono stare sono le quattro squadre tra virgolette sulla carta più forti tra virgolette della liga insieme a poche altre tre ce ne sono di sicuro che sono quelle classiche che avevano prima seconda terza atletico real madrid e barcellona in ordine alfabetico anzi no neanche perché ho detto prima real madrid che il bar comunque va bene e poi c'è il siviglia che ahimè brutti ricordi proseguiamo con le partite di domenica e i bar osasugna partita da tripla poi io lo susanna io la chiamo susanna non osasugna o susanna è la squadra più che ti fa impazzire di più perché pensi che vinca pareggia pensi che pareggia perde pensi che perda va a pareggiare o a vincere cioè non sa se mai cosa possa combinare quindi 1 2 atleti bilbao levante 1x villareal valencia 1 alaves elce 1 uesca vagliadolid 1x e betis siviglia reals sedad altra partita da tripla quindi 1 2 me la butto lì così però non ve la consiglio francamente veniamo alla schedina alternativa granada siviglia over 1 e mezzo selta vigo atletico madrid over 1 e mezzo real madrid calice over 2 e mezzo getafe barcellona over 1 e mezzo partite di domenica e bar osasuna under 3 e mezzo atleti bilbao levante un po a rischio under 3 e mezzo se volete un over 1 e mezzo ci potrebbe stare però non lo so preferisco andare di under poi succede quello che deve succedere villareal valencia gol perché questa mia chiappa da gol mi sa che finisce un 2 a 1 3 a 1 per il villareal poi come al solito io la butto lì poi vedete voi alaves elce 1 c'è 1 over 1 e mezzo uesca valladolid under 3 e mezzo e betis siviglia reals sedad anche questa mi puzza di gol poi il pallone rotondo succede di tutto anche l'altro giorno danimarca inghilterra danimarca l'inghilterra mi resta in 10 rigore per la danimarca e ciao ciao partita perché con l'inghilterra in 10 ciao ciao partita la danimarca si è accontentata l'inghilterra ci provava ma era in 10 e non l'ho vista la partita ma presumo che più o meno sia andata così le prima mezz'ora all'inghilterra il gol non l'ha trovato maguire si è fatto espellere e ciao ciao partita veniamo alle bollettine ho scelto le quattro partite di domenica come vi dicevo vi ho dato la dritta con le quattro fisse sulle partite di sabato ma siccome c'era quel real madri calice a 1 e 23 che poi mi sballava tutto per fare le doppie e tutto quanto poi non ce n'erano tante da fare la doppia perché erano tutte 1 e 70 1 e 77 1 e 75 1 e 65 eccetera ho preferito scegliere quattro partite di domenica per rendere un po più rischiosa la questione e vedere un attimino anche di avere varie opzioni dei giocabili quindi partiamo subito con atleti bilbao levante 1 villareal valencia 1 alla vessa elce 1 uesca vagliadolid 1 con 5 euro 66,59 euro seconda bollettina con due doppie e due fisse atleti bilbao levante 1 is villareal valencia 1 alla vessa elce 1 uesca vagliadolid 1 x con 5 euro 22 euro e 55 direi che con questa cifra cifra qua chi vuole può vedere con una doppia in più se gli viene comunque una cifra intorno ai 15 16 euro che prendi un attimino di meno ma rischi un attimino di meno perché villareal valencia e anche alla vessa elce l'uno è favorito però sono due squadrette che vanno lì a giocarsela tutte e due quindi attenzione terza bollettina atleti bilbao levante 1 x più over villa real valencia 1 is più over alla vessa elce 1 is più over uesca real valadolid 1 is più over con 5 euro 44,06 euro quarta bollettina che a me fa libidine anche se c'è una partita che è un po a rischio quello quel gol ospite però ci può stare proprio col discorso che facevo rispondendo a mio follower prima anche le squadre materassol magari il gollettino della bandiera lo infriccano lo stesso quindi atleti bilbao levante gol ospite sì villareal valencia gol ospite sì alla vessa elce gol ospite sì e uesca vagliadolid gol ospite sì con 5 euro 34 euro virgola 19 libidine perché ci vuole magari l'ho detto anche prima ma la libidine ci va sempre vedete un attimino voi quella la vessa elce che è un attimino appunto di domanda come vi dico sempre usate la vostra cavessa prendete spunto me la bella mettete lì belle tranquille allora questa mi piace questa non mi piace faccio così questa mi piace la faccio uguale eccetera 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 quinta bollettina atleti bilbao levante gol piover villareal valencia gol piover alla vessa elce gol piover uesca vagliadolid gol piover con 5 euro ne vengono fuori 352 virgola 24 avrete già capito che sono tutti a parte villareal valencia in cui il gol piover è favorito anche abbastanza non truppissimo ma c'è un 0 40 mi sembra di differenza a favore del gol piover che non è tanto però è già qualcosa le altre no le altre sono intorno all'uno atletico bilbao levante a due volte addirittura a favore del no gol più under le altre due alla vessa elce uesca vagliadolid quindi se volete proprio rischiarvela giocatevi due euro come vi dico sempre con due euro le portate a casa circa 140 sono soldi e se no magari fate villareal valencia gol piover le altre andate via di no gol più under magari viene fuori 50 60 70 forse anche di più euro magari le portate a casa lo stesso ultima bollettina folle infatti poi faccio anche quella col no gol atletico bilbao levante uno più gol villareal valencia uno più gol alla vessa elce uno più gol uesca vagliadolid uno più gol vi dico subito che atletico bilbao levante più no che si più no gol che gol alla vessa elce uesca vagliadolid hanno per scontato che finisce 1 a 0 2 0 un punteggio addirittura 0 a 0 bilareal valencia diciamo che la differenza sul no gol c'è però è 0 50 quindi quella lì magari uno più gol ci potrebbe anche stare le altre se escono è dal doppia libidine coi fiocchi perché ripeto con due euro se ne vincerebbero 1092 e con 5 euro addirittura 2730,85 con uno più gol su tutte e quattro le partite quindi naturalmente ho fatto anche la bollettina col no gol perché se magari qualcuno la vuol giocare atletico bilbao levante uno più no gol villareal valencia uno più no gol alla vessa elce uno più gol e uesca vagliadolid uno più no gol con due euro comunque se ne vincono 113,98 uno va a farsi una bella mangiata di pesce più o meno 60 euro a testa penso che ci potrebbe stare dentro bene qua più o meno il prezzo è quello magari ci mette quei 10 euro in più se no una pizzata con gli amici 113 euro in quattro ci state dentro a meno che non fate le pizze come le mie con 5 euro 284,97 bene ragazzoli io qualche dritta ve l'ho data come vi dico sempre non copiate mi prendete spunto a volte ci azzecco come è successo un paio di settimane fa col campionato inglese mi sembra la seconda o la terza giornata che ho preso tutte e sei le bollettine per un totale superiore ai 1200 1300 euro però capita ogni tanto quindi se vi piacciono le copiate se non vi piacciono fate dei piccoli cambiamenti magari tenete la mia proposta aggiungendo qualcosina di più per pararvi come si dice il fondo schiena e poi vediamo cosa succede perché l'importante è farvi vincere se vi do le dritte giuste io sono contento se grazie alle mie dritte facendo le piccole sostituzioni vincete lo stesso sono ancora più contento ciao 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 Grazie.